Il Vangelo di oggi, 26 gennaio 2024, inizia con questa affermazione Il Signore ne designò, quindi ne scelse, altri 72 E' una chiamata continua a lavorare nella vigna del Signore perché la vigna è immensa, è immensa quanto è immenso il mondo Però gli operai disposti a lasciare tutto e a seguire il Signore e, come dire, a lasciarsi assumere dal Signore per lavorare per Lui non sono poi così molti Dobbiamo essere grati per tutti i consacrati e le consacrate per tutti i sacerdoti che hanno scelto la via del Vangelo ma non possiamo smettere di pregare perché il Signore susciti nel cuore di altri operai perché possano seguire questa strada e Lui stesso ce lo chiede nel Vangelo Però leggiamolo, commentiamolo insieme ma intanto segniamoci con il Segno della Croce perché lo Spirito Santo faccia scendere questa parola nel nostro cuore e l'aiuti a comprendere Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amin Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi Diceva loro La messe è abbondante ma sono pochi gli operai Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe Andate Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada In qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa Se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui altrimenti ritornerà su di voi Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa Non passate di casa in casa Quando entrerete in una città e vi accoglieranno mangiate quello che vi sarà offerto Guarite i malati che vi si trovano e dite loro E vicino a voi il regno di Dio Parola del Signore Quando ero ancora in formazione quindi un giovane seminarista una delle cose belle che mi è stata insegnata e che mi è rimasta sempre nel cuore è questa La fede è un passaggio da parola a parola da persona a persona Ed è bellissimo questo perché tu incontri una persona e quante persone incontriamo quotidianamente e a quella persona tu puoi dire la tua esperienza Ero un disperato Io spesso dico questo Ma il Signore ha avuto pietà Mi ha incontrato Mi ha fatto una carezza Mi ha parlato Mi ha rialzato Mi ha consacrato Mi ha reso sacerdote perché io potessi a mia volta incontrare parlare testimoniare dare una carezza rialzare riconciliare con il cielo le anime che avrei incontrato ogni giorno della mia vita Tutti possiamo fare un'opera di evangelizzazione Tutti possiamo andare nel mondo perché tutti viviamo nel mondo E anche la persona che sta quasi tutto il giorno o tutto il giorno chiuso in casa può evangelizzare e può annunciare la sua fede con una vita santa con una vita tutta piena nella preghiera tutta piena nella fiducia nel Signore E tu? Come evangelizzi? Ti lascio con questa domanda Buona meditazione Buon ascolto Buona evangelizzazione Buon ascolto